le ragazze di vittorio ecco le ragazze che stanno arrivando nella zona del Londra dove tutto il pubblico si è assiepato è tornata calda hanno ancora una curva e poi finiscono la loro prova ecco che siamo arrivate bravissime un applauso alle ragazze di vittorio sono partite le ragazze di aria i ragazzi di aria sono fortissime nello slalom stanno per arrivare hanno ancora dieci metri arrivate bravi ragazze partite le ragazze di sugaretto grazie 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 ecco le ragazze che stanno nella prova sono nell'ultima curva e stanno finendo terminata la prova per le ragazze di sugaretto partite avevo agito ragazze applauso agito 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 Grazie. 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 Partite le ragazze che corrono. Va bene, va bene voi, vai da là. Vai che è buona. Vai che va bene. Vai mo? Vai, vai, vai. Benissimo. Forza, destrezza e abilità per riuscire a guidare la bocca. Le ragazze stanno a trasfrontare le ultime curve, sempre nella zona di Prava. E' ancora una decina di metri e avrà finito il loro percorso. Tempo di Corropoli. Vai e va. Partito è l'ultimo tratto di parto. Vai e va. 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 Ed ecco che hanno terminato le ragazze di Maggiora. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.